Esistono piccoli gesti che possono fare la differenza, come stampare con le cartucce e i toner rigenerati Dr. Ink, che ti permettono di risparmiare fino all'80% sul prezzo degli originali con una resa di stampa ideale. In più, hai la sicurezza di un prodotto rigenerato in Italia e amico dell'ambiente. Dr. Ink, la catena di negozi in franchising per le tue esigenze di stampa.